Sono positivi i riscontri che vengono fuori dal resoconto del progetto Natale delle Meraviglie. Inaugurato lo scorso 8 dicembre e terminato domenica 6 gennaio, sono state oltre 5.000 le visite alla casa di Babbo Natale, allestita presso il Castello Incantato. Circa 1.000 bambini che hanno preso parte invece a Natale Gentile. In proiezione, considerando i genitori, sono state circa 3.000 le presenze complessive, in questo caso. Il Natale Gentile ha previsto un percorso con partenza da Piazza Vittorio Veneto verso la città alta del Castello, passando per Via Piave, Via Mazzini, Piazza della Mercanzia, consentendo l'incontro con gli artigiani e negozi di Agropoli, con una serie di attrazioni ai laboratori creativi e didattici. Positivo riscontro che è venuto fuori dall'analisi delle schede di gradimento, fatte compilare a partecipanti, sia da parte dei bambini, parte attiva, che dei genitori. Famiglie provenienti da zone quali Montecatini, piuttosto che Rovereto, come altre aree, molto attive nel periodo natalizio, hanno lasciato commenti molto positivi. Sono state circa 4.000 le attività laboratoriali messe in campo dall'Associazione Argonauta, che hanno coinvolto i piccoli elfi. Importante è il dato relativo alle provenienze. Oltre a visitatori di Agropoli e aree limitrofi del Cilento, molti gli utenti da Napoli, Capua, Avellino, Sant'Angelo dei Lombardi, Battipaia, Salerno, Ponte Cagnano, Eboli, Capaccio Pestum, Potenza, Roma, Frosinone, Lecce, Agrigento, Cosenza, Torino, Novara e Como. C'è stato anche qualcuno proveniente dall'estero, in particolare dalla Germania. In taluni casi gli apprezzamenti hanno portato due comuni, oltre regione, a chiedere all'Associazione Ercola, che ha curato la casa di Babbo Natale, di poterla proporre il prossimo anno, anche sui loro rispettivi territori. Altra novità di quest'anno, che ha avuto riscontri molto positivi, è stata la Natività, collocata in piazza Vittorio Veneto, personaggi di grande impatto, realizzati dai maestri cartapestai dell'Associazione Il Carro. Collegate a queste ci sono state una serie di iniziative, anche in collaborazione con i commercianti, che hanno ravvivato le serate dicembrine. Tra queste musica, animazione e intrattenimento, la mostra dei presapi artistici, allestita nelle sale del castello, con termine ieri, lunedì 7 gennaio 2019. In via pecora la console Xbox One S gigante. Come dimenticare poi il tradizionale concerto del primo gennaio, che ha visto esibirsi il cantante Paolo Belle e la sua band, che ha visto tantissime persone affollare piazza Vittorio Veneto, nonostante le temperature rigide.